Ma tu lei l'hai vista? No, lui ci vede però. L'ho sentito dire che ha ucciso qualcuno, ecco perché deve restare chiuso. E tu ci andresti lassù, vero? Il loro incontro cambierà le loro vite. Le volevo chiedere se posso portarle qualche altra cosa che ho scritto. Metti il catenaccio, se pensi di entrare. Molti aspiranti autori hanno detto che avrebbero scritto il romanzo del secolo. Beh, William Forrester lo ha scritto. Il premio Oscar Sean Connery. C'è una specie di gara a scuola per giovani scrittori. Lei ne ha mai fatta una? Una volta. E ha vinto? Ma certo che ho vinto. Ha vinto soldi o cosa? Il premio Pulitzer. Scoprendo Forrester. Domenica alle 21.30 sulla 7.